I piccoli del Signore, ogni giorno si parla qualcosa di nuovo, tutti i giorni insieme ai bambini è una cosa speciale. Noi ci accorgiamo con mia moglie, sempre li vediamo, mi dice guarda come è, guarda i bambini, sempre c'è qualcosa che Dio ci parla attraverso di loro. Ok, adesso iniziano a passare i bambini, che abbiamo una bellissima sorpresa per loro. Noi ci accorgiamo con mia moglie. Alleluia 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 Alleluia